Siamo SPS Italia 2024 con Edoardo Pizzolato, Area Manager and Engineering di Wittenstein Italia. Wittenstein partecipa a questa fiera con un'offerta in grado di far fronte a un mercato sempre più esigente. Su quali concetti si fonda il vostro percorso di innovazione? Wittenstein è sempre stata molto attenta all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo in termini di miglioramento del prodotto in stessa in termini di ricerca di nuove tecnologie. Ne sono a dimostrazione il grandissimo ampliamento di prodotti che c'è stato nel corso degli anni e la ricerca finalizzata alle nuove tecnologie. Cito per esempio Synapse, il nostro sistema di tensoristica che può essere integrato nei riduttori, finalizzato alla risultazione dei parametri direttamente a valle del riduttore. Oppure il nuovissimo acquatore Galaxy che ti pone al top in termini di performance e di precisione richieste sulle macchine automatiche. Da non dimenticare inoltre tutta la gamma di prodotti Wittenstein Cyber Moto meccatronica, che includono i motori Flash e QN, i micromotori rinacciari rossidabili e gli attuatori lineari finalizzati. Tra i numerosi settori di competenza di Wittenstein vi sono l'imballaggio e il food and beverage. Cosa chiedono oggi questi mercati e quali sono stati i maggiori cambiamenti degli ultimi anni e quali i trend futuri? La digitalizzazione è un tema sicuramente sempre più importante, non solo come equipaggiamento delle macchine ma anche come integrazione della componenti. Non dimenticare poi che anche in questi settori a loro volta è che gli operatori tradizionalmente riguardano il costituzionamento e l'invottigliamento di beni commerciali si stanno orientando su quello che sarà il futuro. Cito per esempio la produzione, il pregiornamento delle batterie, sia per autotensione che l'onics. Invece proprio quello che è legato al mondo dell'economia. Quali sono le soluzioni che il gruppo Wittenstein offre ai settori del packaging e del food and beverage e quali sono le principali peculiarità e i vantaggi? L'impresa è in grado di offrire un'ambia gamba di soluzioni, dalle più tradizionali, il ciuto ai nostri produttori epiceroidali, piangolari a coppia cronica, piangolari a vita senza fine, riservo al produttore di background. Per noi nel di care cogliudo ciò che è orientarlo alle nuove esigenze del mercato e dei clienti, che riferisco nuovamente al nostro sistema finanziario, ossia il sensore integrato dell'industria. Oppure anche a tutte le soluzioni meccatroniche di Wittenstein Cybermode che portendono micromotori brushless in esecuzione di geni pre-design, frameless o autotorni lineari. Cito inoltre due eseduttori essendo autotorni in esecuzione di geni pre-design o corrosionale ditta, che possono soddisfare le esigenze in ambienti spremi. inoltre due eseguzione di geni pre-design. inoltre due eseguzione di geni pre-design.